Buonasera, benvenuti a una nuova edizione del nostro telegiornale. Iniziamo parlando dell'8 marzo, la festa delle donne, mattinata in centro avarese per la questura e per il camper, simbolo della lotta contro ogni forma di violenza di genere. Ce l'avamo anche noi, vediamo il servizio. Ti controlla gelosamente, ti deride anche in presenza di altri, ti fa sentire inadeguata o ti colpevolizza oppure ad aridire sul tuo abbigliamento. Questi sono solo alcuni dei comportamenti maschili che racchiudono gli ingredienti della violenza perché condizionano la donna minandone la serenità e imprigionandola in una vita non sua. A volte poi questi elementi psicologici possono sfociare in brutalità esplicita ed ecco che la polizia approfitta dell'8 marzo per ricordare che questo non è amore, perciò va denunciato prontamente, senza indugio. E così, in una ricorrenza diversa dal solito, vista la guerra che sfiora i nostri confini, la questura porta il suo messaggio sociale, preventivo e culturale nel cuore di Varese, città che pochi chilometri più in là, accanto all'ospedale del Ponte, vanta una casa della nutrice pronta ad accogliere, proteggere e affiancare le donne vittime di violenza e che qui, in piazza del Garibaldino, stringe alleanza con i ragazzi di Pappaluga, associazione che trasforma il disagio giovanile in opportunità di riscatto. Anche in questo momento di difficoltà assoluta la Polizia di Stato c'è, vuole esserci, è disponibile e noi invitiamo come sempre, come ogni anno, ma come tutti i giorni, le donne a rivolgersi con fiducia a noi. Prego a te, dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie per l'attenzione, siamo sempre qui, chiaramente non perdiamo occasione per ribadire il nostro messaggio. Diciamo alle donne che siamo sempre disponibili, se sono in difficoltà assolutamente rivolgetevi alle forze dell'ordine, a tutti i presidi che sono presenti sul territorio, in procura, siamo tutti pronti a sentirvi e ad accogliere le vostre stanze. Oggi, come al solito, ci aiutano i nostri ragazzi speciali del Pappaluga che sono bravissimi. Staremo qui un po' nel centro cittadino a distribuire il nostro materiale che contiene informazioni utili per tutte le donne che vorranno o che hanno possibilità di sapere che altri si trovino in difficoltà. E' ancora senso parlare di 8 marzo? Come riuscire a tutelare veramente la donna a casa e nei luoghi di lavoro? Ne abbiamo parlato insieme alla consigliera di parità della provincia di Varese, Anna Danesi. Ricorrenze come la festa internazionale delle donne hanno ancora senso nel 2022 dal suo punto di vista. Sì, hanno senso perché è una sorta di momento, diciamo così, di riflessione, ecco. Però non bisogna fermarsi all'8 marzo perché poi le problematiche le viviamo tutti i giorni e l'8 marzo deve essere un momento magari di incontro, di sintesi su quello che uno ha fatto, su quello che si può fare, di riflessione appunto. Però ecco, non mi fermerei a una giornata. Bisogna lavorare sempre su queste tematiche e farlo soprattutto dai nostri territori, dalle piccole realtà e cercare di portare avanti una politica di genere. Anche appunto, insisto molto, nelle scuole perché i ragazzi poi sono i cittadini del futuro, sono i lavoratori del futuro, sono i datori di lavoro del futuro. Per cui è soprattutto importante che loro abbiano ben chiare queste tematiche. L'hai detto soprattutto sui nostri territori. C'è una peculiarità del Varesotto? Ma diciamo che a volte si fa un po' fatica a far capire che di fronte a situazioni che creano delle discriminazioni di genere, spesso non c'è un intento discriminante, ma questo è un dato che non dovrebbe rilevare e che non rileva. Quindi si prende un po' il problema come un qualcosa di personale, che non è. Cioè ci sono situazioni che oggettivamente creano una disparità di trattamento, incidono sulle pari opportunità e questo è un po' difficile a volte da far comprendere. Questo sì, soprattutto in un contesto di aziende magari anche molto grandi che nascono come aziende padronali, che poi hanno avuto grande espansione e quindi diventano realtà molto importanti. Questo si fa un po' fatica ed è un peccato, per questo bisogna intervenire e mi piacerebbe farlo anche nelle aziende con degli incontri. Siamo tutti dalla stessa parte da questo punto di vista. Mentre le multinazionali hanno compreso da tempo, perché chiaramente nel nord Europa, nei paesi di Commonwealth sono molto più avanti su queste tematiche, che una situazione di svantaggio, di discriminazione o di molestia crea sicuramente un danno anche all'azienda, perché aumenta l'assenteismo, la gente lavora peggio, la produttività decresce. Quindi chiaramente queste tematiche stanno molto a cuore all'azienda, proprio anche legate alla produttività, perché questo deve fare un'azienda poi, oltre ad avere certamente un'etica da questo punto di vista. Si fa a volte fatica invece a comprendere questo tipo di ragionamento all'interno di aziende magari non multinazionali, questo sì, è più difficile. Però ecco, è importante anche da questo punto di vista far comprendere proprio come siamo tutti dalla stessa parte, cioè in un ambiente di lavoro dove si sta bene, si lavora bene e se io sono assente un anno perché ho messo nel mondo un figlio, ma sono una risorsa valida, posso dare ancora tanto? Per questo si comprende, credo che sia un vantaggio assolutamente per tutti. In piazza Varese sono scesi anche alcuni studenti per unire in un unico grido il rispetto per le donne e il turbamento delle violenze in Ucraina. L'occasione è la festa della donna, ma i ragazzi dell'Unione degli Studenti, pochi nel numero, determinati nelle argomentazioni, scelgono di far sentire la propria voce su ogni genere di violenza o di discriminazione, raccogliendo in un'unica istanza tutte le esigenze che, dicono, una volta accolte daranno vita a una società davvero moderna. La matrice comune è il sistema in cui viviamo, in cui vengono lasciati indietro i più deboli e chi riesce a prevalere, perché ha un contesto privilegiato con la forza, riesce a prevalere su chi invece viene lasciato indietro. Poi, nello specifico sulla scuola, ne chiediamo carriere alias, cioè possibilità di cambiamento di nome per chi sta svolgendo una transizione di genere, un'educazione sessuale che non sia eteronormata, quindi solo, diciamo, sesso uomo-donna, che sia il consenso, che sia il piacere e poi anche codici antiviolenze dentro le scuole. Poi in città è necessario anche che ci siano spazi sicuri, anche consultori laici, accessibili, cosa che in questo momento a Varese, ma anche in Lombardia, è assente e in generale è un luogo che permetta a tutti di essere se stessi e a dove determinarsi. Continuiamo a parlare di Ucraina, perché è atterrato oggi all'aeroporto di Linate, un altro volo della Speranza, a bordo cinque bambini affetti da malattie oncoematologiche in arrivo dall'ospedale di Kiev, ad attivarsi ancora una volta l'organizzazione Sole Terre che nelle scorse ore ha accompagnato alcuni dei piccoli all'Istituto Tumori di Milano, mentre altri sono stati presi in cura dagli spedali civili di Brescia. Ad accogliere i ragazzi, tra gli altri l'assessore regionale alla protezione civile Pietro Foroni. E continuiamo a parlare di Ucraina e ci spostiamo a Samarate, dove ieri sera sono arrivati ben due bus carichi di donne e di bambini, ad attenderli in Piazza Italia il sindaco Puricelli e il vice sindaco Alampi. Sono una settantina i profughi ucraini arrivati a Samarate, due pullman carichi di donne e bambini che sono fuggiti dalle loro città massacrate dalla guerra. Ad attenderli in Piazza Italia il sindaco Enrico Puricelli e il vice sindaco Nicoletta Alampi. Samarate c'è, ha commentato il primo cittadino, e non lascerà sole queste persone. Orgoglioso della mia Samarate, orgoglioso della mia Italia, un cuore d'oro. Speriamo che tutto questo finisca in fretta, perché non è corretto e non è giusto. Sequestro di droga e due arresti. La polizia di Busto Arsizio ha avuto un fine settimana particolarmente impegnativo. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Sequestro di droga e due arresti. La polizia di Busto Arsizio ha avuto un fine settimana impegnativo. Il primo intervento è stato effettuato la sera di venerdì a Lonate Pozzolo, in una delle vie che costeggiano i boschi notoriamente interessati dallo spaccio. Qui la pattuglia ha deciso di fermare e controllare un'autovettura in transito con due uomini a bordo, insospettita anche dal fatto che l'auto avesse la targa della provincia di Vercelli. Il passeggero, un ventenne piemontese, ha subito consegnato un pezzetto di hashish, che agli occhi esperti dei poliziotti è sembrato il classico specchietto per le allodole, utilizzato per nascondere qualcosa di più compromettente. Ne è seguita dunque la perquisizione dei due, che ha portato al sequestro di circa 160 grammi di eroina e 50 grammi di cocaina, che il ventenne nascondeva negli slip, con più di 1600 euro in contanti. Inevitabile l'arresto del giovane. La seconda operazione è stata invece portata a termine nel pomeriggio di domenica a Busto Arsizio. Un 37enne residente in città è stato segnalato come spacciatore. I poliziotti hanno deciso di verificare definitivamente le informazioni, perquisendo il domicilio dell'uomo provvisoriamente trasferitosi a Gallarate. Anche in questo caso il sospettato ha cercato di limitare i danni, consegnando agli agenti pochi grammi di hashish e marijuana, ma non ha potuto evitare che fosse passata al setaccio anche la casa di Busto Arsizio. Qui, nascosti in una grondaia, sono stati scoperti vari panetti di fumo e confezioni di Maria, per un totale di circa 700 grammi, un bilancino, sacchetti e una macchina per il sottovuoto, utilizzati per confezionare le dosi da vendere. Anche il 37enne è stato arrestato e dunque portato in carcere. Voltiamo pagina al sindaco di Maccagno, Compino e Veddasca Passera, applaude al referendum che ha sancito una nuova fusione tra enti locali, unico modo per risparmiare migliorando i servizi. E sull'intesa con i vicini svizzeri, aggiunge, i confini sono fatti dagli uomini, ma la realtà supera ben presto le barriere. Sindaco Passera, lei ha sempre spinto per la fusione dei comuni, tant'è vero che oggi guida tre comuni in uno e nei giorni scorsi Bargano, Malgesso e Bardello hanno seguito lo stesso percorso. Sembrava impossibile perché le fusioni parevano non piacere a nessuno. Sì, è vero. Ha sorpreso piacevolmente anche a me questa notizia, sia per il fatto in sé stesso, sia per l'ampiezza con il quale il referendum ha avuto il consenso. Evidentemente la gente sta prendendo coscienza che le difficoltà dei comuni sono sempre maggiori e che per davvero riuscire a dare servizi sempre più efficienti e più efficaci c'è la necessità di ottimizzare la presenza dei comuni. Quindi è un segnale importante e incoraggiante. Sul fronte dei risparmi a conti fatti, insomma, lei che ormai da qualche anno guida Maccagno con Pino e Vedasca, ma che negli anni passati aveva guidato la sola Maccagno, insomma, le differenze si vedono? Sì, assolutamente sì. Si vedono ed è molto semplice. E sono vantaggi che vanno ben al di là dei soldi che lo Stato ogni anno dà per dieci anni per chi fa la fusione, soldi che per Maccagno valevano più o meno 480 mila euro all'anno, ma dipende dall'ampiezza dei comuni che si fondono. Ma in realtà il risparmio è un altro. Il risparmio è l'ottimizzazione di due, tre, quanti sono i comuni che si fondono, servizi analoghi, revisore dei conti, tenuta IVA, segretari, uffici tecnici, cioè tutto quello che viene raddoppiato, replicato, viene razionalizzato. Per Maccagno è un'operazione che noi abbiamo stimato in almeno 250 mila euro all'anno e questi sono soldi che restano e che restano per sempre e sono soldi che vanno a favore dei cittadini perché meno soldi sulla spesa corrente vuol dire maggiori servizi e questo è il senso e il valore di un comune, dare servizi ai propri cittadini. Lei oggi guida un comune triplicato, molto grande, vasto, eterogeneo e a ridosso della Svizzera. Qual è lo stato di salute del territorio, soprattutto in merito all'occupazione? Allora, lei ha ragione. Noi abbiamo un territorio enorme, un territorio che è secondo per estensione solo al comune di Varese e questo già dà l'idea. È chiaro che è un territorio che vive in osmosi con la Svizzera nel senso che il frontalierato è l'attività principale ed è importante anche per questo il rapporto che abbiamo avuto proprio di collaborazione proficua con i colleghi dei nostri vicini svizzeri del comune di Gambaronio, che mi piace ricordarlo è anch'esso frutto di una fusione di dieci comuni perché poi la storia alla fine finisce per ripetersi. Noi abbiamo un rapporto molto stretto e l'incendio che qualche giorno fa si è sviluppato proprio in Demi al ridosso del confine di Biegno ha messo in risalto come viviamo un territorio che è straordinariamente simile. L'incendio ci ha servito per testare come ci sia la necessità di avere rapporti sempre più stretti in caso di emergenza ma non ha fatto altro che ribadire cose che sapevamo già la sicurezza, i trasporti, il lago, i frontalieri, il treno, il transit sono tutti problemi trasfrontalieri alla fine viviamo in realtà autonome perché poi le barriere le hanno fatte gli uomini ma in realtà abbiamo problemi simili per questo che è sempre più importante che comuni vicini sappiano anche di nazioni diverse e sappiano lavorare insieme perché alla fine cambiano le norme ma non cambiano i problemi. Un corso di primo soccorso cinofilo quello in programma in Dunolona ci spiega tutto Mattia Andriolo Primo soccorso tattico veterinario come aiutare un amico a quattro zampe in difficoltà per intervenire tempestivamente serve sempre conoscere e bene come farlo vale per i cani così anche per gli esseri umani nasce con questo intento il corso di primo soccorso cinofilo organizzato dall'associazione Animal Touch in collaborazione con HS Security Swiss società elvetica che si occupa di servizi di sicurezza e formazione a persone e unità cinofile si terrà il 26 e 27 marzo presso le selve di Ndunolona dalla teoria alla pratica per il bene dei nostri animali passando per gli aspetti legali dei loro padroni con l'avvocato Conconi l'obiettivo è quindi quello di fornire un corso il più possibile completo sia dal punto di vista medico affidandoci chiaramente a una figura di un medico veterinario il dottor Guido Sessa specializzato in medicina e chirurgia d'urgenza andando a toccare gli argomenti più importanti quelli di interesse comune ma anche argomenti specifici del settore che riguardano gli infortuni del cane da lavoro la parte più importante sarà sicuramente dedicata alla pratica dare la possibilità al conduttore di poter esercitare sul proprio cane ma anche su altri cani la pratica di quello che apprenderà durante il corso non solo, uno spazio molto importante sarà dedicato anche a quello che è il trasporto del cane ferito Animaltà c'è una realtà conosciuta sul territorio soprattutto per i progetti di pet therapy che vengono rivolti alle realtà sociosanitarie di Varese e della provincia in realtà ci occupiamo anche di educazione cinofila e abbiamo voluto fortemente la collaborazione con HS Swiss Security in questo corso perché l'abbiamo ritenuto estremamente aderente a quelle che sono le necessità al giorno d'oggi anche dei proprietari medi di cani quindi non solo proprietari di cani atleti o cani che sono impegnati in attività di utilità ma anche i proprietari di cani cittadini normali La parte di cui mi occuperò io personalmente riguarderà la manipolazione dei cani quindi far passare il concetto che è vero che il cane deve avere delle competenze degli apprendimenti funzionali a quelle che poi devono essere le sue performance ma è anche vero che abbiamo bisogno di cani profondamente equilibrati quindi per ottenere dei cani che vivano in una condizione emotiva equilibrata abbiamo bisogno di sottoporli gradualmente e di lavorare su un'abituazione a tutti quelli che possono essere stimoli ambientali e manipolazioni è molto più semplice gestire un cane anche in una situazione di difficoltà quindi di ferita o di dolore, di sofferenza se il cane è abituato a questo tipo di interventi risulta molto difficile anche per il proprietario nel caso in cui il cane sia assolutamente digiuno da essere manipolato in un certo modo Parliamo di pubblicità e facciamo un salto indietro nel tempo quando gli influencer erano le maschere come per esempio Arlecchino Oggi per esempio nella pubblicità ci sono gli influencer un tempo c'erano appunto le maschere erano gli influencer di allora adesso abbiamo altri personaggi ma allora Arlecchino ci diceva che dovevamo comprare un determinato prodotto molte firme fra la cartellonistica più note parlo di Mettilicovitz piuttosto che di altri artisti che diciamo in genere li conosciamo sì per una produzione diciamo ricchissima dal punto di vista della pubblicità ecco loro scelsero molto spesso le maschere della tradizione italiana per veicolare dei prodotti non soltanto nei manifesti di grandi dimensioni quindi quelli che erano destinati all'affissione pubblica ma anche su piccole pubblicità non soltanto grandi firme come dicevo prima ma anche autori anonimi quindi una produzione estremamente ricca nel volume abbiamo presentato alcuni esempi che sono presenti in alcune testate periodiche alcune riviste dalla lettura piuttosto che riviste come La Donna o Lidl piuttosto che altre testate che sono conservate ad esempio nella Biblioteca Civica di Varese e in parte anche alla Biblioteca Nazionale Braidense nei fondi periodici ecco molte tavole all'interno quindi non solo di copertina anche in bianco e nero ecco riproducono questi personaggi della commedia dell'arte ecco perché? perché erano degli esempi facili riconoscibili da un grande pubblico e quindi diventava appetibile il prodotto che veicolavano quindi era allora un elemento importantissimo senta lei ha citato la Biblioteca di Varese perché la coautrice di questo libro Patrizia Albe che ricordavamo all'inizio che purtroppo è scomparsa conosceva bene anche questo territorio e quindi ha attinto anche qui Arnatese, Cedratese, Gallarate Calcio, Torino, Club e Azzalè sono le cinque società calcistiche della città di Gallarate che insieme al sindaco Andrea Cassani e all'intera giunta hanno inaugurato ieri il nuovo campo sintetico allo stadio Atleti Azzurri d'Italia rimasto chiuso per quasi un anno Arnatese, Cedratese, Gallaratese Calcio, Torino, Club e Azzalè sono le cinque società calcistiche della città di Gallarate che insieme al sindaco Andrea Cassani e alla sua giunta hanno inaugurato ieri il nuovo campo insintetico dello stadio Atleti Azzurri d'Italia rimasto chiuso per quasi un anno rimessi in sicurezza anche gli spogliatoi le panchine e la tribuna con l'installazione delle nuove paratie sistemata anche la pista d'atletica tornata finalmente praticabile un primo intervento che dovrà certo essere seguito dall'intero rifacimento prossimo passo la pubblicazione di un bando per la gestione dello stadio questo non vuole essere uno stadio a disposizione di una sola società ha spiegato il sindaco ma vuole essere lo stadio di tutti sì, finalmente è pronto questo nuovo campo abbiamo fatto lavori per sistemare anche gli spogliatoi le panchine, la tribuna e quindi siamo contenti di poter restituire alla città questo importante stadio come detto nelle prossime settimane potranno allenarsi società di calcio ma non solo gallaratesi poi ci sarà un bando e vedremo chi lo prenderà in gestione di certo è che chi parteciperà al bando dovrà contemplare anche la presenza atletica su campo quindi insomma non sarà più come prima lo stadio sarà effettivamente la città e delle associazioni sportive cittadine i costi di sistemazione dello stadio sono in parte stati coperti da Regione Lombardia grazie al bando per la riqualificazione e l'adeguamento degli impianti sportivi che ha dato a Gallarate 150.000 euro a dare il calcio d'inizio di questa nuova avventura il sindaco, i piccoli atleti delle società coinvolte e il gallaratese Marco Parolo ex giocatore professionista parliamo ora di pallavolo con la futura che ha terminato la regular season e ha conquistato il fattore campo per i playoff vediamo il servizio è una partita che andava gestita dall'inizio in parte l'abbiamo fatto ma prima e terzo set non mi è piaciuto l'approccio iniziale di quei due set lì dove anche adesso guardavo 13 errori battuta rispetto a 6 ace è troppo è troppo per poi quello che si è andato a proporre nelle altre fondamentali muro difesa perché dovevamo spingere di più l'ho detto durante i time out perché c'erano delle cose che sapevamo quando inizio a non vedere troppo aggressività a muro non mi piace perché loro si sono infilate parecchie volte da seconda linea insomma adesso va bene tutto ma dico sempre che non siamo nel maschile che la seconda linea è uguale alla prima quindi ci si può arrivare ci si può murare invece più di una volta ho visto proprio fare delle scelte sbagliate su cose che avevamo già visto detto ciò chiaramente poi rientro in merito al fatto che arriviamo da tre successi settimana scorsa quello di Olbia sicuramente è il più complicato per come si era messa la partita e per com'è Olbia in casa va bene adesso purtroppo devo dire la verità aspettiamo non è colpa di nessuno però purtroppo ci dobbiamo fermare queste altre due settimane fondamentalmente per poi vedere un po' la griglia playoff che si scoprirà proprio all'ultimo perché fondamentalmente è tutto ancora aperto sono contentissima perché veniamo da tre vittorie di fila che comunque ci servivano tanto all'umore quanto comunque alla situazione tecnico-tattica della nostra squadra che stiamo affinando e con degli ottimi risultati direi ora aspettiamo non sappiamo quando giocheremo ci prendiamo questo tempo per riposare comunque e andare a mettere a punto un po' di situazioni che stiamo sviluppando all'interno della squadra e ne approfittiamo appunto per riposare dopodiché siamo pronte per questo nuovo campionato visto che puntiamo ad arrivare fino in fondo e questo non ci nascondiamo e quindi ci faremo trovare pronte a tutti buonasera il tempo di domani sarà ben soleggiato su tutta la regione con solo qualche velatura in transito all'alba a brinate estese ma in giornata a temperature massime in lieve aumento sulla pianura previste da 11 a 14 grade in montagna a zero termico e rialzo fino a circa 2000 metri con questa edizione del nostro telegiornale abbiamo terminato come sempre vi ringrazio per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di serata insieme a Rete55 grazie e arrivederci grazie a tutti